Ciao ragazzi, per chi non lo sapesse c'era una volta una materia scolastica che si chiamava economia domestica, cioè insegnare a fare tutte quelle piccole riparazioni familiari perché una volta non c'era il consumismo di oggi, non c'era neanche la disponibilità di beni sfrenati come oggi. Oggi facciamo una lezione di cucito, per la cronaca io so anche fare il ferri, cioè non la bistecca ai ferri, fare la lana, lavorare la lana con i ferri oltre che cucire, stirare, lavare, quella almeno. Oggi siamo dotati di uovo di legno per riparare le calze, ago, occhiali, ditali, di ottone da non confondere, forbicino e poi tanta esperienza acquisita quando ero piccolino, che me l'ha insegnato mia mamma, 10-12 anni, mi ha insegnato tante belle cose che all'epoca magari erano reputate come stupido, noiose e adesso invece con l'esigenza, con l'emergenza odierna, ritorno di modo utilissimo. Per chi gli interessa, li farò vedere poi la tecnica proprio di riparazione, che si può subito anche far vedere. Ah, dimenticavo che bisogna fare il nodo, il nodo al filo per evitare, per consentire di bloccarsi nel passaggio da una, da una tratta di lana all'altra e poi si cuce. C'è poi una tecnica, vedi, ta 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 ta, vedi, stringe e così via. L'uovo di legno, oggetto sconosciuto, aiuta a tenere il tessuto teso e a far lavorare bene nel lago, vabbè, poi nel dettaglio vi faccio spiegare la prossima volta. Ciao ragazzi, auguri!